ciao a tutti amici e amiche bentornati sul canale di pistantana siamo di nuovo qui con bayonetta 3 e allora signori riprendiamo l'avventura della nostra strega seresa e procediamo ad affrontare il capitolo 9 dopo aver provato utilizzato un nuovo demone anche se solo provvisoriamente che ci ha aiutato ad affrontare il capitolo precedente e sicuramente entro breve scommetto che andrà a far parte del nostro parco demoni insieme a doronzo il treno e compagnia cantante comunque dai procediamo ad affrontare il capitolo 9 lezioni di volo vai gizza si giusto eravamo approdati in egitto allora intanto ok il nostro obiettivo è lì di qua che c'è allora qui non si può andare qui nemmeno lassù c'è qualcosa però dove è andato a l'ho preso perfetto perfetto ottimo allora dicevamo noi dobbiamo andare là e quindi facciamoci una bella escursione da quest'altra parte allora guarda chi c'è qua che si nasconde il rospetto vieni rospetto ok qui c'è un combattimento quindi prepariamoci al dovere e vediamo un po' chi è ah c'era un altro mica l'avevo visto non vedo cosa è successo qua dai maledetti oh questo qui si nasconde dietro a quello grosso maledetto vigliacco ecco bravo ci hai provato anche te e vai ottimo ottimo qui che c'è no più in su di qui non si va vieni caccia bravo qui c'è l'abisso bene ok non c'è altro quindi dai però voglio vedere cosa c'è qua sopra assolutamente niente ok ok anche qui ce l'ha visso quindi andiamo di qua eh me lo immaginavo che in un ponte lungo così succedesse qualcosa e quando mai ora pure la tempesta di sabbia alla faccia della tempesta chi è ora chi è ora che rompe le palle non si vede un cazzo e ora come ci arrivo di là scusa da qua sotto no 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 dove devo andare scusate non ho ben capito no mi dice di qua mi dice perché mi dice di qua mi orienta di qua ok e questo tunnel ci porta dove cosa sono quelli sono stili state buoni io passo io passo e basta ok quindi chi ci viene a spaccare il culo ora allora lassù c'è una sfida ma le sfide si è detto che me ne faccio poi questo si rompe no va bene dai addirittura rosso sbada bang mamma mia quanti sono e uno e uno Ora questo che cazzo è? Mamma mia che legnata Ah pensavo fosse lontano Vacca puttana Curiamoci vai E riprendiamo l'altra arma che Quell'altra è troppo lenta No lì E vai Addirittura Non ci voglio credere La rosa delle pallottole a forma di cuore Incredibile Ma come se lo inventano? Bene Caccia 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 Brava Ma siamo sicuri che poi questi uccelloni qui non ci vengano a A spaccare il culo tutti insieme Mi danno un pensiero? Mi danno eh Se vengano tutti insieme siamo fritti Cosa essere quello? Ora ci andiamo eh Fatemi devastare tutto Ok Cosa ha fatto? Si è tagliata il porzo? Perché? Si è tagliata il porzo Dio mio che bestiaccia E ora c'è da affrontare questa Sicuro Dove si va? Ah ma è alleato nostro Annunciatore della fine Malfas Bello E lo possiamo cavalcare? Come mi ha fatto a prendere che ero per aria Io E' Ma è Sbada bang Quanto ci vuole a fare il culo A questi piccini Che cazzo fai Vabbè Ora qui c'è quanti ce ne ho? no di là ok ce l'abbiamo fatta combo pessime ma io veramente ero convinto di aver fatto bene ok ci scorazza lui a giro bene ottimo ora c'è il combattimento aereo no niente combattimento aereo? si grazie allora femmi tutti tanto per cominciare guardiamo i demoni che questo ok questo è bloccato quindi va usato per forza bene tempio delle tempeste curiamoci anche vai questo non abbiamo idea ah ma li posso fare questi? se? ora via quindi potevamo migliorare e non lo sapevo va bene e questo? aumenta potere magico massimo cambia categoria viola colori del mondo ah la madama butterfly pilastro g si oronzo va 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 migliorato sicuramente ok signori dai poi ci studierò comunque un po' di vita in più male non fa grazie ci stiamo sempre a curare ci stiamo non lo posso fare ok va bene anche lì poi ci guarderemo no che succede oh ma ho questa no ancora cosa mi da perla di luna ok quindi possiamo possiamo aumentare la quantità di potere magico allora io però voglio fare un tentativo per agguantare il collezionabile no brava complimenti va bene comunque l'importante è che l'abbiamo che l'abbiamo che l'abbiamo agguantato questi non si rompano ma qui sto tornando indietro sì mi sa di sì ok sto tornando indietro quindi o no non capisco non mi sto orientando infatti mi sto allontanando sto tornando indietro è di trenino qui che bisogna fare ottimo e qui che vuoi che non ci sia la battaglia sicuro come le tasse ok no no vieni via vieni via se no ti ammazzano come mi ha fatto a beccar scusa stavo facendo la mossa allora però visto che ce l'abbiamo utilizziamo questa vai 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 all clear vai sbada bang allora fermi tutti voglio prendere un lecca lecca per aumentare i danni inflitti prendi quest'altra arma e crepa bastardo oh questa volta siamo riusciti anche a prendere una quantità ragionevole di danni non male non male signori non male ok cosa devo fare cosa devo fare ah ok perfetto rientra 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 e ah Allora facciamoci un giretto Vediamo un po' cosa Cosa c'è in giro Eh un cazzo Non c'è nulla a giro Qui chi c'è Collezionabile Perfetto Dai proseguiamo Nell'edificio Oh Siamo arrivati Ecco perfetto Oddio Cosa devo fare Ma servono a qualcosa Questi Serve a qualcosa Romperli o così No non credo Che serva a qualcosa Bisogna andare di là Qui è chiuso E allora bisognerà rompere questo Ok Mi riuscire ad andare lì Ma qui c'è qualcosa Ma qui c'è qualcosa Cos'è Non c'è niente là Perfetto Per aria Qui qualcosa c'è Ma solo questi cosini qua Va bene Va bene Ok Facciamo un po' Gli acquisti Ciao caro Come va Ciao caro Come va? Invincibilità 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 Per un breve periodo Ah questo Questo mi sa che ce l'abbiamo Ma non l'abbiamo mai usato Questo Questo Ah Costa sempre di più Vabbè Prendiamone due Vai E per ora Va bene così E vediamo a questo punto Se 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 riusciamo Ah uno solo ne serviva Perfetto Allora Ne abusiamo Ne abusiamo Alla grande Ok Ora addirittura Va a capo Perché non c'entra Alla vielli Quindi noi andiamo di qua Che ci porta Precisamente Dove eravamo Prima Ah è proprio Da dove siamo venuti Idiota Però qui c'è qualcosa Vediamo un po' Questo Sì 15 secondi No Ciao Arrivederci Andiamo Andiamo Questo Oh non vedo Una ceppa Di minchia Non vedo Come mi fa a beccare Guarda quanto è lontano Come mi fa a prendere Cristo Oh Jesus Christ Andiamo di qua Vai Brutto stronzo Come si fa a distrugge Questo Ce l'ho fatta Ottimo E vai Qui c'è il boss Sicuro Come le tasse No 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 Questo Brava Questo Qui Vai Distruggi Questi stronzi Ottimo Ottimo È stato Facile Guarda là Che lavori Un platino Addirittura Signori Un platino Qui si vola Altissimi Si vola Cos'è che devo sollevare Non ho capito Cos'è che devo sollevare Aspetta Fammi vedere Qui Afferra Con R Dove la devo mettere Qui dentro Cosa devo fare Manca qualcosa Allora Facciamo così Mettiamola qui Oh Bisognava Bilanciarli No 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 Quello Non lo voglio fare Che fai Qui giù Ecco Immaginavo Questi sono Sono veloci So se mi convenga Chiamare il demone Al limite Oronzo Che sta qui davanti Via 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 Dove sei? Uh questo è grosso Eh questo mi sta Sul cazzo Mi sta Oronzo Guarda che bastardo Però Soffiali Soffiali Bravo Bravo Missili addosso Bravo Ottimo Tutto stronzo Vai Oronzo Vai Vai Bravo Ottimo Stiamo migliorando Qui ragazzi Qui giù Qui giù E' anche abbastanza lunghetto Questo capitolo Bene Mi fa piacere Perché Alcuni sono veramente Veramente Cortissimi Neanche il tempo di abituarti Agli strumenti nuovi Che ti dava Che finiva subito Quindi bene Dai Mi fa Strapiacere Questa cosa Cosa devo fare Qua Qua No Che cazzo fai Vai Treno Oddio Porco cane Ogni volta che muoio qui Deve caricare Tutto questo tempo Ci mettiamo Sei mesi Ci metteremo Assolutamente Sei mesi No Allora Dobbiamo usare Un demone Oh Ma me lo dai Oh Che cazzo No no E' assolutamente Impossibile qua Signore Come faccio Ce l'ho fatta Tutto qui E' qui E' qui ora Che devo fare No no Ronzo Scusa Dai Di là Fatto Bene Vai Perfetto Cos'è cascato Qui Eccolo L'avevo visto qualcosa Che cascava Sereza Scusa Non ho capito Cosa hai detto Non ti stavo Ascoltando Chi c'è ora Uh Mamma mia Facca la puttana Sì Almeno una volta Lo puoi prendere Cioè Non gli sto facendo niente Non veido Vai Oronzo Aguantalo Basta, basta, basta Allora, fermi tutti Usiamo un lecca lecca Che ci potenzia, se no ci mettiamo 6 mesi qui Ah no, aspetta un attimo Che ci abbiamo La mossa speciale E vai Vai, apoteosi No, non è l'apoteosi È il missilone, ok E vai Un altro elemento del caos Perfetto No, non è stato per niente Semplice, cara Che succede, oh? Ma, insomma Mica tanto Che dobbiamo fare ora? Nulla fa da sé No, non fa da sé Oh, bello Vai Mio Dio Che casino Mio Dio Non si aprisce nulla No Eh, ora anche questi stronzi Via Ma non c'è un'altra arma Mio Dio Mio Dio Aiuto Ora Ora cos'è questo? Oh, a cosa siamo sopra ora? Aia E mi pareva Non posso mica fare niente, no? Mio Dio Non capisco niente Ma c***o Bravo Bravo Bravissimo Ok Era un versetto anche questo Ok Ma ora c'è da affrontarlo questo Porco cane Ai Mio Dio Mio Dio Cos'è sta roba? Siamo intrappolati? Eccolo Eccolo che arriva Unità duale da combattimento pesante e non ho letto il nome Salve cara No non gli fai niente John Non è la tua prinsessa Ma ho promisato a un amico Che venire per te Non è la tua prinsessa Grazie a tutti. Minchia, questi mi fanno un culo a strisce. Allora, intanto... No, aspetta, questo. Intanto, intanto... No, non ce l'ho qui il... La super mossa. E allora si fa... Si fa, si fa... Oh, che cazzo, mi date un attimo il tempo? Oh, via. Ce l'ho, Ronzo? Vattene a fanculo, te. Eh, sta volta un tipo... Mi freghi, eh. Come va fatta a prende, come va fatta a prende. Queste cose mi fanno incazzare. No, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Cioè, non mi riesco neanche ad avvicinare, non mi riesco. Ma che cazzo... Avevo saltato, avevo, cazzo. Cosa sono questi cosi qui? No, via, non mi riesco neanche ad avvicinare. Non so come devo fare. Come ha beccato? Come ha fatto a beccarmi? E ora è andato via. Ok, fermati. Vieni, che ti concio per le feste. Oh, questo fa male, eh. E vai, te sei del gatto. Ahiai, sei inglobata. Ah... Ora che sto qui è. Porco cane. Ora che succede? Chi fa? Se l'hai mangiato? Ora cosa diventa? Cazzo! E ora? Ci pensi te? Ah, è il nostro amico quello lì. Non sono la persona che ho avuto. Ora, guarda, Jean. Non ne vado a un'altra persona, non ne vado a me stesso. merda qui abbiamo fatto schifo infatti ci hanno preso alla brate dall'inizio alla fine mio dio questo come lo buttiamo giù e Oh un'altra battaglia alla Godzilla Bello Mi piace mi piace Guardiana della creazione Spettro Ora facciamo culi a strisce Addirittura tempo limite Cosa devo fare? Non ho capito Ah posso cambiare? Amore 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 Non mi facciamo più niente Cambia vai Ah ora è lassù Dai 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 Brutto bastardo Ok dai Cosa ci fa con questo Non mi sto a fare niente Allora cambia dai Non lo posso più cambiare Perché mi dici di andare qua Ah devo salire sopra addirittura No Non capisco come Merda Vaffanculo Non capisco che succede Non capisco cosa devo fare Mi sa che siamo fottuti Altro che discorsi Tempo limite Non ce la facciamo mai Perché la caccia alle strighe è finita? Va bene Riproviamo Ma dove la vedo l'energia di lui? La vita Non capisco che succede Spera dai picchia forte ma come cazzo faccio ad andare a quell'affare lì dai ok un po' di male gliel'abbiamo fatto ora non vedo un cazzo non vedo dai picchia forte e ora? c'è lui? di nuovo? ok come si fa ad andare giù? dai picchia forte su 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 dai uccellaccio via 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 come ti senti caro? ora come ti senti? si lo so lo so vado 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 eccolo eccolo apoteosi vai eh si io te l'avevo detto di non metterti contro di me ma è un coglione hai voluto fare il bello? hai voluto fare il pazzesco di me ma è un coglione Grazie a tutti. Oh, agguantala, è un fare cazzate. Sì, è lei. Ma insomma, sei crepata? E vai, capitolo concluso. Ragazzi, capitolo bello, bello, bello. Mi sono divertito tantissimo. Credo che abbiamo ereditato anche una nuova arma, ok, componente del caos, lo sappiamo. E nuovo demone sottomesso, la rospona e nuova arma, passione anfibia, ok, come dicevo prima, va bene, comunque. Un altro demone sottomesso, Malfas che è il lucellaccio e l'arma di baionetta di un altro mondo, del mondo degli egizi. Comunque, dai. Sì, ok, luce di selene, grazie. Sì, sì, va bene. Che dire, signori, puntata bella, 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 mi sono divertito tanto ad affrontare questo capitolo, quindi io non vedo l'ora di potervi portare il prossimo episodio, nel quale affronteremo il capitolo extra numero 3 e il capitolo numero 10. Io come sempre vi invito a lasciare like, a condividere e se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale. Un saluto da Pissantana. Ciao a tutti.